Buonasera a tutti, sono Andrea Meregalli, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Monzebrianza e vi do il benvenuto alla seconda serata del ciclo Serata di Architettura del Belvedere del 2018. Una ripresa dopo la pausa estiva, sapete che siamo partiti relativamente tardi quest'anno ma andremo avanti fino a novembre inoltrato, il calendario lo dovreste conoscere, comunque seguite per eventuali aggiornamenti che ci saranno nei prossimi mesi in relazione alle prossime serate. Questa seconda serata abbiamo sempre nell'ottica di quello che è un po' il nostro filo rosso, ovvero la totale mancanza di filo rosso tra i professionisti invitati, se non la qualità del loro approccio, metodo e delle opere che realizzano. Filo rosso che noi abbiamo sempre detto sta un po' poi a tutti noi riuscire a rintracciare perché diventerebbe, almeno per noi, alquanto anche poco utile proporre un approfondimento tematico da andare a sondare, cioè secondo noi è molto più interessante invitare degli architetti che reputiamo lavorare con una certa qualità e produrre opere di qualità fisicamente proprio sentirli parlare, interagire perché spesso e volentieri la progettazione nasce, passa anche attraverso la gestualità, la postura. Il mio professore dell'università parlava di postura del pensiero, cioè il pensiero ha un suo modo di porsi e quindi anche come un architetto si racconta attraverso le sue opere ma anche attraverso la sua fisicità. Questo è un motivo anche un po' di orgoglio per cui noi non facciamo collegamento webinar in questi incontri perché crediamo nella presenza fisica e nella forza del racconto che un architetto riesce a dare delle sue opere. Ora, io non vorrei più perdere tempo per sottrarlo appunto al racconto di Laura Peretti, architetto di Roma, che ci farà vedere una serie di opere in cui noi potremo appunto anche vedere la qualità del dettaglio a diverse scale e l'approfondimento appunto, cioè l'approccio progettuale come si declina su progetti di scale completamente differenti. Voglio ricordare che queste serate sono organizzate grazie anche al contributo con i sponsor di cui troverete del materiale informativo in fondo alla sala. A questo punto direi di cominciare ringraziando Laura Peretti per aver, come dire, accolto il nostro invito. Grazie. Beh, naturalmente sono io che ringrazio voi, ringrazio moltissimo l'Ordine di Monza per questo bellissimo invito in un luogo peraltro che ho visto tantissimi anni fa e che era in condizioni completamente diverse e che oggi ho ritrovato con una grande emozione, devo dire. Ringrazio in particolare Laura Viscardi con cui mi lega una antica amicizia e lei è stata la mia professoressa di prospettiva che secondo me mi ha molto aiutato nella vita. Beh, quindi grazie. Tra l'altro voglio dire che prima mi sono affacciata in questo parco straordinario e è stata veramente un'emozione fortissima vedere qualcosa che trovo che sia molto italiano e con questa commissione francese, insomma, avete un parco veramente bellissimo, meraviglioso. Ho voluto partire con questa frase perché mi ha molto colpito quando l'ho letta perché in qualche modo mi ricorda il fatto che ogni volta che lavoro mi trovo di fronte a situazioni in cui naturalmente tutti noi architetti abbiamo un problema di parlare al nostro mondo contemporaneo ma anche contemporaneamente di parlare al nostro mondo passato. Quando ho letto che appunto l'homo sapiens ha questa porzione talmente piccola, cosa di cui sapevo, però insomma questo paragone mi ha molto colpito, ho pensato che quella sensazione che ho molte volte davanti a un paesaggio viene esattamente da questa cosa che evidentemente abbiamo un po' nel DNA, che siamo una parte molto piccola di una storia molto grande. Ho deciso di mostrarvi un po' di progetti che sono collegati anche da una vicenda che ho avuto la fortuna di... cioè quest'anno sono stata invitata alla sezione internazionale della Biennale di Architettura e nel cercare, cioè quando viene invitato devi rispondere a un tema e naturalmente c'era questo manifesto molto come dire importante sul tema free space in cui anche lì c'era una frase che mi ha molto colpita che era la terra come cliente e ho pensato che moltissime cose che faccio in fondo ho cercato di avere un cliente che non fosse solo il mio committente ma di rispondere a qualcosa che faceva parte di quel contesto, di quel sito, di quella situazione specifica. Quindi ho collegato un po' di progetti che vi mostro questa sera con questo tema e legato anche al rapporto fra pieno e vuoto. Corviale è un concorso che ho vinto qualche anno fa, tutti gli architetti italiani e non spesso lo conoscono, è questo enorme edificio lungo un chilometro fatto da Fiorentino e come dire nella fine degli anni 70 completato all'inizio degli 80 laddove proprio quel momento in cui diciamo la grande utopia per cui era stato pensato stava un po' declinando, anzi declinava del tutto quindi con questo grande coraggio secondo me di ripensare una comunità che poi in realtà non c'era già più. Corviale oggi è una periferia ancora degradata, lo è meno che una decina d'anni fa, è comunque secondo me è un progetto eroico in cui si è tentato di limitare diciamo l'urban sprawl con un gesto molto radicale, cosa che in qualche modo è anche riuscita nel senso che di là da Corviale nonostante le nuove, nonostante sì la città sia molto arrivata a Corviale, comunque c'è ancora un pezzo di agroromano. Questo agroromano secondo me è una grandissima risorsa non solo in sé di per sé ma lo è proprio nell'edificio Corviale come edificio che sta a cavallo di una situazione urbana e appunto quella del paesaggio. Come si può vedere tutto quello che succede dopo Corviale comunque ha ancora brani di autentici diciamo di paesaggio. Questa è una pianta che vi faccio vedere molto velocemente perché è ovviamente un po' complessa però nel fare il progetto che era un progetto che riguardava soprattutto non le case riguardava solo gli spazi pubblici quindi noi dovevamo risarcire diciamo Corviale di tutti quegli spazi pubblici che non erano stati fatti all'epoca della sua costruzione cioè il quarto piano, il famoso quarto piano di cui molti di voi avranno visto anche un film che è anche un altro progetto che è stato occupato praticamente era rimasto monco diciamo di tutti questi servizi. In realtà i servizi a Corviale ci sono, non è vero che non ci sono servizi, il problema è che l'edificio è molto scollegato da tutto il suo contesto ed è un edificio autonomo proprio per il modo in cui è impiantato nel crinale di cui appunto che viene costruito, che viene come quasi è elevato dal Corviale stesso e manca invece tutto l'attacco a terra. Quindi il concorso chiedeva di rimettere a sistema la città, il territorio e l'edificio Corviale. Noi abbiamo cominciato cambiando prima di tutto una strada che è la strada di accesso perché oggi c'è questa strada che è una strada completamente rettilinea, ci sono solamente cinque ingressi, mentre ci sono 27 corpi scale che qui si vedono un po' poco però ci sono 27 ingressi che naturalmente danno accesso a tutte le case che sono sopra e naturalmente oggi uno fa questi percorsi si fa così con l'auto, continua a fare questa specie di loop intorno a Corviale, imprigionandolo completamente in questa viabilità carrabile e poi all'interno i flussi pedonali sono, io ne parlo sempre come una pallina da flipper perché si va avanti e indietro costantemente o per 200 o per 500 metri a seconda dei... quindi l'idea è stata prima di tutto di cambiare l'accesso perché oggi manca anche una scala intermedia, manca proprio, cioè si vede Corviale da lontano e poi quando si arriva a Corviale ce lo si trova completamente in faccia, quindi non c'è nessuna differenza fra un punto e l'altro. Nel percorrere questa strada ogni punto di Corviale è uguale all'altro quindi ci manca anche un principio di identità e la prima cosa che abbiamo pensato è stata proprio quella di lavorare su una strada che cambiasse la percezione dell'edificio all'arrivo e che caratterizzasse e quindi individuasse nel... lungo tutto questo edificio quale era il punto dove tu abiti perché secondo me la cosa molto importante è che quando... comunque Corviale è una casa, è un po' un monumento di abitazione, è un bellissimo blocco di cemento brutalista, è tutto quello che vogliamo, però comunque è la casa di persone che abitano lì e che hanno un problema di identità molto forte. Devo andare a cercare qualcuno che abita lì, mi devono venire a prendere perché tutti i punti sono uguali, questo secondo me è un problema enorme, cioè non è una cosa che si vive bene. Poi l'altra cosa che abbiamo cambiato è questo attacco, cioè il cosiddetto vallo che oggi qui ci sono dei garage che manteniamo, lo abbiamo colmato, cioè la sezione è diritta, quindi era anche facile, non era una cosa particolarmente complessa e il fatto di aver inserito questa strada in questo modo ha dato origine a queste sezioni che sono... queste sono 12 sezioni, ma ne possiamo fare anche 30 o 40 e diciamo che quasi tutte, a parte il fatto che hanno alcune situazioni tipo, però ogni punto è diverso dall'altro ed è proprio questo che in fondo volevamo. Poi un'altra cosa su cui, questo è un fotomontaggio, ho riflettuto molto quando ho cominciato a lavorare su Corviale, è una frase di Fiorentino che dice che Corviale non è un'unità d'abitazione ma che piuttosto è un edificio che riguarda quei monumenti romani, come dire che la sua idea era quella dei grandi monumenti romani. Io penso, Fiorentino non lo dice in questa unica intervista che è disponibile sul web, che è l'unica testimonianza che io ho avuto direttamente, non parla degli acquedotti ma penso proprio che parlasse degli acquedotti perché la struttura di Corviale è questa, la struttura di Corviale nonostante sia un edificio organizzato longitudinalmente è quella di setti trasversali che permettono, come dire, il fatto che nonostante oggi appunto sia organizzato diversamente, che permettono il fatto che venga organizzato in maniera completamente diversa, un po' come accadeva ai grandi acquedotti fatti per, come dire, trasportare un'infrastruttura lineare che era bene o male, cioè fatti come un'infrastruttura lineare che trasportava l'acqua e però utilizzati poi nel corso della storia in maniera completamente diversa dalla città che vi nasceva sotto. Quindi abbiamo pensato di utilizzare il Corviale non più come una barriera, così come era stato pensato, bensì come un filtro. Un filtro che permettesse di percepire Corviale come una sorta di, come dire, increspatura proprio di quel crinale su cui si è collocato e che è un crinale che oggi è impenetrabile perché oggi non solo c'è l'edificio qui ma dietro a Corviale c'è un altro edificio ancora che si chiama Corvialino e è una doppia barriera dentro la quale praticamente tutta la circolazione viene ristretta. Quindi quello che c'è dietro e quello che c'è davanti si limita a questo circuito un po' ossessivo, diciamo, longitudinale. Percepire l'architettura di Corviale come un'architettura permeabile, che era anche una richiesta del concorso ovviamente, ha permesso di, come dire, individuare molti punti di attraversamento, di collegamento quindi fra Corviale e Corvialino ma anche in alcuni punti con la città, appunto, con le preesistenze vicine e appunto di, poi abbiamo individuato, diciamo, in tutta questa nuova permeabilità la modalità di come farlo. Cioè ogni volta che c'era un nuovo accesso c'era anche un attraversamento perché sembrava molto logico rifare non solo l'atrio per questi 27 corpi scale che disgraziatamente erano, come dire, nascosti dentro un percorso interno ma era anche molto sensato, come dire, riuscire a sentire anche un po' questa topografia nascosta e avere più facilità che ogni volta che uno entra in casa può anche, se cambia idea, andare a farsi una passeggiata o di qua o di là. Poi, il punto più complesso di Corviale è questo. Oggi qui c'è un ponte e, diciamo, la cosa più, diciamo, proprio più strutturale che abbiamo preso in considerazione è riuscire a cambiare la circolazione esistente, che è questa. Come vi dicevo prima, ci sono tutti questi anelli carrabili dentro i quali sta messo il corpo di Corviale e poi, appunto, questa è la circolazione pedonale che, come vedete, è una specie di asta rigida sempre dentro e con questi cinque punti che si chiamano piazze che, insomma, sono dei microbi di triangoli trasformarla in una circolazione che fosse un anello molto più fluido cioè per andare da una parte all'altra con dei garage che entravano direttamente anziché fare il rigiro e quindi costringere questa strada a diventare una specie di loop e basta, non avere nessun tipo di funzione quindi ammorbidendo questo anello carrabile questo permette che ci sia una permeabilità sia, diciamo, a terra che rispetto ai corpi scale esistenti che, come vedete, ci sono anche qui che modifica completamente l'assetto dell'edificio. Questa trasformazione concretamente come si fa? Io ho messo qui alcune foto di quello che è adesso e di quello che prevediamo sarà cioè questa è quello di cui vi ho parlato prima il punto più complesso di Corviale dove c'è un salto di 9 metri che oggi viene superato con un ponte qui dietro c'è un muro di cemento alto 7 metri poi c'è un salto di quota fra una parte e l'altra questa situazione diventerà così cioè è il punto in cui comincia la piazza questi sono gli accessi oggi cioè io abito qui però per andare a casa mia devo andare al corpo monumentale e invece ci arriverò direttamente e potrò anche attraversare questo edificio questa oggi è una bellissima un bellissimo tunnel architettonico che naturalmente mi ha affascinato credo che affascini molti di noi perché è una bellissima ha una sua geometria però è un luogo oggi molto difficile e lo abbiamo spostato sul davanti davanti ai giardini che abbiamo fatto quindi la percorrenza longitudinale verrà cambiata e verrà portata all'interno all'esterno in questa parte altre situazioni ne abbiamo tantissime io qui vi faccio vedere proprio le più evidenti anche perché alcune si fa anche fatica a fotografarle questo è il salto di quota quando arriva al ponte uno deve scendere qui e dopo ancora deve scendere delle altre scale per collegare una parte e l'altra diventerà così cioè una parte molto più fluida dalla piazza si arriverà direttamente alla campagna questa è la famosa gonnellina che noi trasformiamo in una serie di atelier che dovranno diciamo anche rivitalizzare la strada retrostante fra Corviale e Corvialino e che in alcuni casi siccome non si poteva trasformare tutto il chilometro di qua diventa invece una zona messa a verde in cui ci sono alcune attrezzature di tipo ristoranti o cose di questo genere questa è poi la parte più diciamo urbana da un punto di vista urbano la parte più interessante e importante perché la piazza ha una in realtà collega sia longitudinalmente che trasversalmente tutto il parterre che c'è qui la città stessa perché qua è proprio la parte dove c'è più ci sono delle presistenze più consistenti e più importanti che sono il comune la scuola la biblioteca eccetera quindi c'è un asse che bisognava anche raccogliere il punto dove oggi si salta e si fa il ponte quindi si è completamente scollegati e poi appunto alla fine di questa piazza c'è un edificio che fa ancora un salto di quota che è un edificio che noi abbiamo chiamato il centro per lo sviluppo della biodiversità perché diciamo alla fine di una piazza a me sembrava giusto che ci fosse un edificio civile che servisse veramente a qualcosa e mi sono posta il problema di dire ma a Corviale che cosa serve a Corviale la gente non ha lavoro cioè c'è il problema che abbiamo in tantissimi posti in tutta Italia c'è un problema di carenza di lavoro ma naturalmente nella periferia ci sono persone che in una casa popolare come Corviale ci sono tantissime persone disoccupate e queste persone spontaneamente si sono diciamo occupate di qualcosa cioè si sono occupate per esempio di tutto quel terreno che sta dietro Corviale e hanno sviluppato alcune attività spontanee naturalmente legate all'agricoltura legate anche alla fauna perché qua ci sono anche i cavalli ci sono diciamo diverse attività del tutto spontanee allora mi è sembrato giusto pensare che proprio perché Corviale è un edificio che sta a metà fra la città e la campagna dovesse avere il meglio di tutte queste cose dovesse essere un luogo sì un centro culturale va bene però un centro culturale dove io posso anche sviluppare un'attività che magari mi serve per diventare uno che ha un lavoro e magari l'università mi aiuta magari come dire questo edificio può in questo edificio possono accadere delle cose che possono accadere solo qui cioè magari incontro le università incontro persone che mi insegnano un mestiere magari c'è una start up magari come dire invece che fare un orto urbano senza nessun fine magari può diventare il mio lavoro forse è un sogno non lo so però insomma mi sembrava che questa fosse l'unica cosa che mancava veramente poi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Mimo Paladino perché nel nel concorso ci doveva essere anche un artista questo artista è stato è stato tutto un po' per caso è venuto attraverso Carlotta De Bevilacqua che voi conoscete naturalmente molto conosciuta si è occupata anche della luce la cosiddetta luce sociale l'abbiamo chiamata cioè quindi cercando di capire anche che cosa voleva dire illuminare un edificio come Corviale e poi magari ne parlo un po' e insieme diciamo quando è arrivato Paladino incredibilmente è stato un po' un caso però c'erano i cavalli a Corviale che li abbiamo incontrati alla seconda al secondo sopralluogo ci siamo trovati davanti dei cavalli veri e poi è arrivato anche Paladino che ha interpretato questo tema diciamo che secondo me è il tema più importante cioè il tema dell'attraversamento della barriera in maniera molto significativa perché e di fatti io gli avevo anche chiesto dico maestro dove lei si vuole mettere che cosa vuole fare e lui gli avevo proposto due o tre posti di cui uno un po' più normale diciamo che naturalmente era la piazza e poi gli ho proposto questo posto un po' strano che è come dire laddove la piazza finisce diciamo e diventa una sorta di campo ed è il punto in cui proprio da qua a là abbiamo deciso di attraversare completamente Corviale con una sorta abbiamo fatto una specie di archeologia moderna della struttura abbiamo aperto un varco abbiamo demolito l'unico edificio piccolo che però impediva proprio di passare di là abbiamo fatto una rampa e c'era questo vuoto sotto che Corviale è spesso 32 metri era un posto un po' difficile io ho detto ma che cosa facciamo qui c'è un posto e lui mi ha detto no no io mi metto lì mi ha detto vabbè e con questo qui ha messo questa vasca diciamo di acqua su cui ci sono questi suoi cavalli che emergono diciamo un po' dalla campagna un po' dall'agro romano un po' dall'acqua che trovo molto significativo per noi questa è la sezione diciamo della piazza che lentamente colma questo dislivello così oggi drammatico che è chiamato anche la frattura non a caso e questa è la prima sezione di questo edificio che poi appunto dentro al quale c'è anche un altro episodio importante secondo me diciamo che è un po' il punto più la rampa pubblica più importante perché collega la quota della città con quella della campagna ed è diciamo un percorso fluido in cui abbiamo messo un cavallo perché perché in realtà non perché sì perché ci sono i cavalli ma anche perché abbiamo pensato in fondo anche i cavalli possono tornare verso la città anche questa è una cosa un po' un po' onirica se vogliamo però però non è detto che il rapporto sia sempre che la città va a prendersi la campagna può darsi anche che ogni tanto succeda qualcosa al contrario questa è appunto la questi primi schizzi diciamo di questo luogo strano che sta qui sotto in cui stavamo pensando come fare e questa è poi una preparazione di quello che abbiamo fatto per il progetto della Biennale quando ci hanno chiesto di portare il Corviale alla Biennale e io ho pensato qual è il tema più importante il tema più importante è l'attraversamento in fondo noi che cosa facciamo di Corviale lo rendiamo un filtro sì c'è la piazza ci sono anche altri edifici dentro che io adesso non vi mostro perché insomma sono interventi più puntuali ci sono degli innesti nella struttura esistente di atelier di piccole attività eccetera però fondamentalmente l'operazione è proprio quella di come dire passare attraverso e riconnettere il suolo con l'edificio con il monolite e quindi ho un po' diciamo enfatizzato questo attraversamento facendolo diventare questo è il disegno della fontana di Paladino che ho portato fino alla finestra perché la finestra era un po' l'unico paesaggio che avevamo e poi le curatrici ci hanno chiesto anche di lavorare io credo che questa biennale restituisce molto le corderie finalmente perché finalmente qualcuno ha pensato che quell'involucro era un protagonista e questo io penso che sia molto importante quindi ci hanno chiesto di lavorare con la luce naturale e di non chiudere finestre fare muri eccetera ma di lavorare con l'involucro in maniera il più possibile staccata ho messo questo grande modello in scala al 50 questo è un pezzo del corviale com'è oggi qui si vede poco perché era avvicinato questo è un pezzo del corviale come sarà domani l'edificio rimane praticamente uguale quello che cambia è tutto il suo parterre qui si vede un po' meglio adesso mi dispiace perché la diapositiva è un po' tagliata qui però questo cambio di sezione è un cambio molto significativo perché permette veramente di interagire con l'edificio poi abbiamo fatto diversi modelli ho fatto un modello in scala al 500 che fa capire tutto il lavoro di queste cioè il lavoro proprio di paesaggio che è stato fatto negli attraversamenti e di che cosa succede diciamo a terra per questo l'edificio è sollevato così come un po' nei miei disegni ma nel modello naturalmente è molto più molto più forte questo è un modello invece in scala al 200 dove si vede un po' che cosa succede nella piazza poi ci sono queste installazioni che ho fatto insieme a un fotografo e che erano quelle che scusatemi si vedevano si vedeva un po' qui e che cosa abbiamo fatto abbiamo preso delle fotografie di questo paesaggio quelle dove tutte insieme si vedevano tutte le varie essenze che esistono a Corviale cioè dei pezzi di paesaggio che si montano tutti insieme nel momento in cui i crinali si sovrappongono uno con l'altro e questo è diventato in realtà un bellissimo gioco perché la gente impazzisce gioca con questi con questi plexiglass però per noi è diventato un modo per lavorare sul paesaggio perché abbiamo cominciato a separare tutte le parti scegliere le fotografie è stato scegliere che cosa vogliamo fare con questa con questa prosecuzione adesso il primo progetto è un pieno che diventa un vuoto cioè nel senso che abbiamo lavorato svuotando e lavorando sul grande vuoto della campagna come un'immissione nel pieno questo è un progetto invece che ho fatto molti anni fa insomma 7-8 anni fa è stato un progetto per me importantissimo purtroppo non è realizzato però è una specie di è un progetto un po' un sogno perché mi hanno chiesto di lavorare su un terreno che doveva diventare una nuova destinazione turistica che non è una cosa proprio da sogno ma insomma però la cosa straordinaria era che era enorme e c'era e questo era il posto cioè io quando sono arrivato ho detto ma questi sono matti dico l'area era enorme perché perché c'era stato un piano di sviluppo allucinante che era stato bloccato per fortuna di cui l'unica parte costruita è questo eccomostro rimasto e sulla base di questo diciamo debito volumetrico si voleva fare molto meno però insomma si voleva fare ancora qualcosa quindi in realtà bisognava siccome qua siamo in Sardegna era appena entrato in vigore o stava entrando in vigore il piano paesaggistico della Sardegna e quindi bisognava rifare tutto rifare una proposta generale che tenesse conto diciamo della volumetria tra virgolette concessa e poi bloccata e che però desse anche la possibilità a questi imprenditori di farla diventare una destinazione turistica nuova perché questo posto era abbastanza lontano cioè bisognava fare delle strade bisognava fare tener conto della distanza degli aeroporti insomma un progetto di sistema molto consistente ovviamente per me quando io sono andata lì ho detto ma come si fa a fare qualcosa in questo posto cioè è talmente bello che qualsiasi cosa ci fai è una responsabilità enorme difficilissimo e vabbè però insomma era anche una grande sfida a cui non potevo dir di no francamente cioè scusatemi volevo farvi vedere una cosa poi c'era questa cosa straordinaria perché la chiamo una geografia intera perché andava da questo monte che si chiama Arquentu fino al mare e con questa continuità incredibile di crinali e valli che era quasi indistinguibile difatti abbiamo dovuto fare un grande modello di territorio per cominciare a capire quale fosse la topografia per cominciare a capire dove eravamo che quali erano le difficoltà dove ci dovevamo mettere perché l'orografia tutta una serie di condizioni di orientamento questi sono tutti versanti sud questi sono tutti versanti nord e cominciare a guardare questo territorio con l'idea che qualcosa poteva essere fatto abbiamo fatto un lavoro enorme un lavoro proprio di studio approfonditissimo un atlante in cui come dire la conoscenza del territorio è diventata anche fare tutto un esercizio di non un esercizio una necessità cioè le necessità era quella di dire ci sono molte mappe da fare che cosa significano queste mappe dove ci portano ci portano ad avere degli strumenti con cui lavorare in questo luogo questa è un po' diciamo una storia la storia riassuntiva diciamo di una cosa che è durata tre anni questi sono poi i luoghi che venivano un po' dal piano precedente alcune cose venivano dal piano precedente alcune cose le abbiamo scelte e poi questa l'abbiamo chiamata la carta dei luoghi perché nell'insieme diciamo di questa costa laddove facevamo comunque dei nuovi insediamenti abbiamo pensato ci devono essere dei luoghi specifici e quindi questa e che stanno lungo naturalmente una litoranea la sintesi di tutto questo lavoro diciamo molto ampio sul territorio un lavoro proprio di paesaggio diciamo di conoscenza di questo paesaggio è stata poi queste tre mappe che sono state chiamate la mappa delle criticità presenti delle opportunità legate agli habitat prioritari e poi un sistema doppio diciamo in cui si diceva alcune aree possono avere delle opportunità insediative migliori di altre per infrastrutture e versanti e in realtà il piano vero e proprio non mi vergogno di dirlo sono questi schizzi perché poi alla fine abbiamo preso delle decisioni abbiamo deciso di non lavorare sui crinali alti ma di lavorare sempre sui crinali un po' più bassi cioè lasciare l'orizzonte alto pulito di lavorare su di evitare diciamo di costruire laddove ci fossero delle linee d'acqua che andavano al mare e quindi di liberare l'acqua che arrivava al mare di utilizzare l'energia disponibile con i versanti sud e però di vedere anche tutti quei crinali che non erano troppo inclinati in modo da non avere abitazioni o come dire comunque edifici che fossero troppo in pendenze troppo ripide e quindi causassero poi ponti scale e quindi tutta una serie di altre condizioni di diciamo costruite e poi di rinforzare quello che era già costruito e quindi di completare eventualmente quello che era già presente questi principi molto semplici sono quelli che poi ci hanno condotto lentamente a fare alcune operazioni questa è diciamo una piazza che abbiamo messo in uno di questi crinali bassi diciamo e che era la testa diciamo di un sistema insediativo che vi mostro subito dopo dove esisteva questa piazza coperta che per me era un dispositivo paesaggistico molto importante doveva diciamo questa copertura che finiva questa piazza legata un po' a questi luoghi naturali doveva inquadrare il mare da una parte e inquadrare la montagna dall'altra quindi doveva essere in realtà un punto che rendeva evidente queste qualità in senso proprio generale e tutto questo resort che aveva 300 stanze e quindi non era facile da fare diciamo perché fare 300 stanze in un territorio così insomma era un bel impegno però naturalmente il cliente ci chiedeva che le stanze avessero la vista a mare come tutti noi vogliamo andare al mare e vogliamo vedere il mare naturalmente quindi ho cercato di inventarmi un sistema che lavorasse sia con il terreno che scendeva sia in questo senso sia nell'altro cioè in senso ortogonale e quindi un sistema di costruzione a un piano solo cioè praticamente ogni volta che c'erano tre metri di dislivello si poteva fare una nuova fila di stanze e questo le stanze avevano sopra un giardino quindi questo permetteva che ci fosse una integrazione diciamo fra il terreno la vista la qualità anche di queste stanze perché andare in un posto così per essere chiusi in un posto qualsiasi ovviamente non ha nemmeno senso quindi questo genere di situazioni appunto di dislivelli colmati oppure con leggeri sbalzi che permettevano al terreno di fluire sotto per me è stato diciamo un momento molto importante della relazione con il territorio poi anche le infrastrutture sono una cosa molto importante perché le infrastrutture io me ne sono resa conto perché in questo territorio c'erano tantissimi segni dovuti al fatto che volevano fare un certo tipo di insediamento e c'erano tantissime strade sterrate mezzi asfaltate lasciate nel mezzo di questo territorio bellissimo le infrastrutture sono altrettanto impattanti cioè non è vero che fare una strada siccome è piana non rovina il paesaggio lo rovina e come? alle volte lo rovina ancora di più perché poi la strada porta l'edificazione perché poi se la strada è malfatta impedisce che l'acqua scorra per cui ho cercato anche in questo di limitare al massimo cioè le strade carrabili e di fatti ognuna di queste in realtà si arrivava con dei mezzi elettrici per cui si arrivava su si lasciavano tutte le auto e poi si prendevano dei mezzi che potevano arrivare in maniera molto semplice quassù l'impianto di questa cosa è direzionato perpendicolarmente al mare è una cosa che viene già da questa lettura e ho capito che come dire il modo in cui leggi il territorio quando lo studi ti dà anche delle delle leggi su come lavorare vabbè naturalmente ho cercato di di non vederlo molto questo hotel ho cercato di nasconderlo perché insomma mi sembrava una cosa giusta da fare poi altri interventi che abbiamo fatto anche questi un po' diversi queste erano delle residenze anche qui abbiamo cercato di lavorare con l'infrastruttura in un modo per cui appunto stesse sempre all'interno di un disegno generale in cui ogni parte comunque dialoga con questa porzione di vuoto che è importante che ci sia perché quando costruisci in un luogo così non puoi secondo me fare una una cosa troppo compatta e poi invece questa che è il completamento di di questa parte di cui abbiamo fatto tutta la riqualificazione che è il cosiddetto l'ecomostro diciamo di cui abbiamo demolito qualche parte e ricostruito la volumetria non facendo delle nuove facciate come ci avevano chiesto ma facendo dei nuovi dei nuovi spazi di fronte ad alcune ad alcune palazzine e poi mi hanno chiesto di fare anche un altro resort e ho pensato vabbè è una cosa un po' però forse possiamo completare una figura che in fondo oggi è appesa e che come dire e che può completare tutto questo sistema costruito abbiamo riconfigurato tutte le strade in modo da arrivare ad un punto che avesse senso quindi come dire questo resort che sta in cima ha qui un luogo naturalmente pubblico che dialoga anche con con la collina che viene inglobata nei suoi diciamo nei suoi bracci nelle sue braccia e che rimane inserita nel contesto questo è un altro progetto invece che ha sempre questo tema del pieno e vuoto e che è un luogo molto particolare in Azerbaijan dove scusate ho lasciato la scritta in inglese comunque è un luogo molto particolare perché oggi in questo posto ci sono queste rocce da cui si sprigiona il gas e queste rocce si chiamano cioè questo posto si chiama Yanardag che vuol dire la montagna ardente è una cosa che un luogo che viene anche citato da Marco Polo in quella che è poi diventata la via della seta e naturalmente insomma è uno spettacolo nel senso che arrivare in un luogo dove c'è un fuoco eterno che si sprigiona non brucia niente se non appunto questo gas che viene da sotto è emozionante è un posto poi il luogo è dietro la montagna cioè qui c'è questa è una piccola montagna è una collina in realtà c'è questo paesaggio molto brullo però a me qui in fondo c'è la città di Baku siamo in Azerbaijan e dalla parte opposta c'è il mare il Caspio è un paesaggio molto brullo che mi ha ricordato il pastore errante nell'Asia cioè veramente un posto dove c'erano delle pecore che pascolavano c'era questo pastore e io ho pensato ma Leopardi ci avrebbe fatto avrebbe pensato forse a questo e oltre a tutto la cosa bella di questo posto è che in Azerbaijan vuol dire la terra del fuoco e ho capito perché andando lì ovviamente perché oltre a tutto questi fuochi oggi sono qui ma ci sono c'erano in molti altri luoghi e in un altro luogo che è oggi un monumento nazionale c'è un tempio del fuoco che è diventato un tempio zoroastriano e venne costruito dagli indiani peraltro perché l'Azerbaijan comunque è un luogo dove da sempre ci sono persone che vengono da altri paesi e diciamo il culto del fuoco è stato appunto concretizzato addirittura da questo monumento che è una costruzione dentro al quale viene costruito il fuoco allora ho pensato beh mi piacerebbe fare un progetto qui avevo fatto un po' di anni prima una cosa che si chiama The House of Landscape avevo studiato il territorio dell'Azerbaijan dove ci sono nove fasce climatiche diverse e ho pensato questo è un museo all'era aperta ci sono tantissimi luoghi dove si può intervenire nel paesaggio in maniera puntuale senza cambiarlo però evidenziando questa cosa che è una cosa straordinaria abbiamo 11 fasce climatiche in tutto il mondo qua ce ne sono nove in un territorio che è grande come la Lombardia insieme a un pezzo di Piemonte quindi voglio dire è una cosa incredibile e così l'avevo fatto un po' diciamo come studio mio generale quando sono arrivata qui ho detto vabbè questo è un posto dove bisogna fare qualcosa perché sono matti che non fanno niente cioè è un posto importantissimo per loro si chiamano la Terra del Fuoco nell'altro posto c'è cioè nell'altro in questo punto che si chiama Tashgah c'è uno dei loro monumenti nazionali ma perché non facciamo un museo ma forse più che un museo è un posto che ti porta a scoprire che cosa c'è qui allora mi sono immaginata di fare un percorso perché oggi si arriva a questo luogo che sono che sono le rocce sacre si arriva da sopra da dietro a questa baracca si scende si va qui e si trovano delle persone che magari si fanno il barbecue che abitano lì vicino e però insomma arrivati qui è finita lì poi ci sono delle scale che ti portano a scoprire questo ma insomma il percorso è un po' banale allora ho pensato facciamo un percorso di conoscenza un percorso di conoscenza che è un anello diciamo che è anche il ciclo dell'energia perché forse questo può diventare il museo delle energie e dopo che ho conosciuto diciamo ho visto anche questo è anche una specie di dispositivo paesaggistico nel senso che nel fare questo scopro tutto quello che c'è intorno finalmente arrivo qui che è il punto più importante l'ho chiamato appunto il museo delle energie tra l'altro il concept diciamo proprio dell'interno di questo museo delle energie l'ho fatto insieme a Simmetrico che che è appunto una loro sono molto bravi diciamo sono quelli che hanno fatto il padellione dell'Azerbaijan che sicuramente molti di voi hanno visto sono molto bravi nello sviluppare tutte queste cose multimediali che in un museo come questo è molto importante tenerne conto perché non è facile raccontare l'energia non è che si può molto facilmente cioè una volta che hai portato dei pezzi la narrazione diventa un po' sterile quindi bisogna veramente lavorare bene sul contenuti e loro mi hanno dato una grande mano su questo abbiamo proprio lavorato molto bene insieme e l'idea appunto è quella di farlo diventare una sorta anche di landmark perché in Azerbaijan la luce è molto importante loro la città è illuminata di notte la città di notte è una cosa molto diversa della città di giorno e hanno questa idea dell'illuminazione molto spettacolare diciamo quindi e all'interno di questo anello c'è anche un giardino perché appunto come avete visto il paesaggio esterno è molto brullo e io ho pensato l'interno deve diventare una sorta di oasi e poi sotto si continua a passare cioè a museo chiuso ho pensato è molto importante far sì che le persone di lì possano continuare a fare quello che fanno oggi fanno il barbecue bene continuino a farlo anche dopo non è che perché abbiamo fatto un museo poi questo luogo che oggi in fondo appartiene a questa comunità sebbene sparuta delle poche persone che abitano l'intorno però è molto importante mantenere quella attività che è un'appropriazione delle persone perché questo fa sì che quei luoghi continuino a restare dei luoghi vivi che appartengono a questa gente questa è la prima sala è una sala dove il fuoco comincia a raccontare la sua storia e all'interno abbiamo fatto appunto quella che abbiamo chiamato la sala del viatico dove il fuoco comincia a raccontarti la sua storia e dice io sono il fuoco adesso ti racconto la storia dell'energia e il fuoco sarà poi un filo conduttore che durante tutto il percorso ogni volta che lo attraversi attraverso appunto delle cose multimediale ti continua a raccontare la storia dell'energia queste sono le piante che vi spiego in modo molto sommario ma insomma si entra di qui ci sono delle soste che ogni volta che c'è una sosta si cambia di tipo di energia cioè c'è la bioenergia le biomasse l'energia del vento è anche un museo didattico ovviamente perché è anche importante soprattutto in un paese come l'Azerbaijan che vive di oil and gas che loro cioè il committente che poi ho trovato il committente scusatemi questo non ve l'ho detto a un certo punto sono andata a parlare con quelli che facevano l'oil and gas gli ho detto avete questa cosa molto bella volete fare qualcosa dopo un po' di mesi mi hanno telefonato mi hanno detto architetto vorrebbe venire qua che ne parliamo un attimo e così abbiamo messo in piedi diciamo il programma di questo progetto e loro mi hanno detto sì noi facciamo oil and gas ma sappiamo che questa energia finisce quindi dobbiamo parlare anche del resto e quindi quando ci siamo trovati in un momento di confluenza totale perché io volevo dirgli vabbè magari un po' di fotovoltaico lo potrebbero siete chiamati cioè Bakù è la città del vento dico cioè avete il vento disponibile fate e loro mi hanno detto architetto era quello che volevamo chiederle e quindi questa cosa è stata molto bella perché come dire è andata tutta insieme no poi c'è ah scusate qui non ho detto una cosa alla fine di questo percorso l'ultimo pezzo cioè qui si esce all'esterno oppure si esce all'interno c'è questo giardino dove c'è una cisterna che raccoglie l'acqua e poi da qui in poi c'è la galleria degli uomini dell'energia perché naturalmente siamo anche in un paese dove insomma le personalità sono ancora molto importanti quindi bisogna anche tenerne conto e poi si arriva qui sotto dove c'è naturalmente un caffè un grande camino caucasico che poi vi faccio vedere e un auditorio e finalmente appunto l'incontro con Iannardag cioè il fuoco sacro diciamo queste sono è un po' all'interno del museo cioè diversi punti in cui appunto c'è questo processo interattivo diciamo fra tutte le varie facilities che ci aiutano a capire tutti i vari tipi di energia diventano dei giochi anche per dei bambini quindi diventa anche una sorta di museo didattico e io l'ho pensato anche come un luogo dove tu vai anche con la famiglia a fare una passeggiata in questo posto perché si vedi il museo fai giocare un po' i bambini però poi puoi entrare qui dentro e questo è una zona protetta diciamo puoi uscire qui fuori e farti una chiacchierata fumarti una sigaretta fare un po' quello che lasciando anche la tua famiglia i tuoi bambini a giocare qui dentro perché stanno comunque in un luogo in cui imparano anche da sé a giocare ma anche come dire stanno stanno bene stanno quindi può diventare e allo stesso tempo io stesso faccio un percorso di conoscenza di tutto quello che ci sta qui intorno questa è appunto l'ultima sala cioè dopo che ho fatto questo percorso che è la galleria degli uomini dell'energia l'ultima sala prima di arrivare al fuoco io posso lasciare quella che è il mio pensiero sull'energia e praticamente posso usare il mio telefonino per dire che cosa penso di questo museo che cosa penso dell'energia che cosa penso in generale diciamo proprio di questo modo di usare il pianeta e poi all'interno di questo giardino siccome c'era una pendenza e il fuoco sta qui dietro ho pensato che era bello pensare a un teatro del fuoco e ho pensato che alla sera questo luogo si anima di un'altra vita ancora di quella che è un po' la sua vita urbana cioè portare lì le persone per fargli vedere le stelle il firmamento proprio ma anche magari fargli sognare attraverso un'altra cosa che è il teatro e poi appunto finalmente arriviamo in questo luogo che è il luogo sacro diciamo però siccome il fuoco non è che c'era tantissime rocce che si incendiano e quindi ho pensato vabbè invece di fare il barbecue qui forse posso creare veramente un camino e mi sono ricordata di un camino che avevo visto in un museo etnografico vicino a Tbilisi in realtà però insomma il Caucaso era una regione unica e che questo camino chiamato il camino caucasico praticamente sotto questo camino si accendeva il fuoco e c'era proprio la comunità che si radunava e quindi l'ho un po' riproposto qui e ho pensato lasciamo Yanardag là dove e portiamo qui un camino dove si può fare il barbecue ci si può sedere e si può fare veramente un luogo dove mi posso sedere comodamente anche quando il museo è chiuso e questa è stata diciamo la storia di questo adesso questo museo vediamo lo stiamo forse va avanti ci stiamo lavorando diciamo poi questo invece è sempre in Azerbaijan un'altra occasione che ho avuto cioè di lavorare su un parco un parco che esisteva già un parco sovietico dove c'era appunto dove mi hanno chiesto di questo era il parco che esisteva diciamo sono due ettari di di parco però in realtà quando sono arrivata lì il problema per loro era siccome questo era l'accesso della città in fondo c'era questo edificio molto piccolo molto poco visibile con questa statua di Aydaraliev che per loro è il fondatore della patria quindi insomma le statue di Aydaraliev in Azerbaijan ci sono dovunque è stato di fatto colui che ha permesso a questa terra di diciamo essere una repubblica di essere una repubblica che oggi ha un'autonomia e quindi per loro naturalmente è una persona molto importante vi dico che qui al posto di questo una volta c'era la statua di Lenin quindi diciamo mutatis mutandis l'importanza è sempre la stessa io mi sono trovata con questa spianata molto indifferenziata molto poco leggibile con questa tra l'altro questo è un posto dove c'è un'atmosfera molto lattiginosa quindi non solo questa non si vedeva la facciata di questo edificio non si vedeva la statua proprio sia per le condizioni atmosferiche c'era sempre questa specie di nebbiolina anche d'estate sia come dire la posizione era molto diciamo sfigata ecco era una cosa molto quindi il mio pensiero cioè per loro siccome dovevano fare le olimpiadi europee e questa era la terza città dell'Azerbaijan e qui vicino c'è un bacino da cui arriva tutta l'acqua diciamo e c'è anche la forza idroelettrica che viene smistata poi in questo bacino si fanno le gare di canottaggio quindi mi hanno chiamato in fretta in furia hanno detto ah lei vuol fare questa proposta ci faccia questa proposta poi il presidente valuterà va bene io ho fatto questa proposta questa proposta è stata messa insieme a molte altre questo l'ho saputo dopo perché in realtà mi hanno detto lei faccia una proposta io ho detto che bello si può fare una proposta poi in realtà c'erano molti altri che come dire che l'avevano fatta però è piaciuto il fatto che io abbia deciso di toccare proprio quella cosa che nessuno osava toccare cioè di spostare la statua io ero un po' ignorante al momento se avessi saputo dopo quello che accadeva spostando la statua forse non l'avrei fatto ma lì per lì mi sembrava la scelta più razionale più logica ho detto vabbè insomma qui si arriva c'è un dislivello cioè vogliono vedere questa statua portiamola in primo piano e poi facciamo una piazza vera e propria un po' più un po' più un po' diversa loro mi hanno chiesto di rifare la facciata di questo edificio ma insomma il tema della facciata a me proprio non mi piaceva cioè io ho detto vabbè insomma non lo so non vengo da così lontano per venire qui a rifare la facciata di una cosa che e quindi dentro di me ho detto vabbè devo trovare un escamotage per rendere accettabile a me stessa questa quest'idea della facciata e ho pensato invece di fare una facciata ok facciamo una piazza facciamo una piazza che è coperta ridiamo un fondale a questa cosa mi scuso che le foto sono molto brutte ma insomma ci sono stati un sacco di problemi per fare queste foto poi c'era questa statua che nel corso del sia dello spostamento che poi dopo quando è stata spostata è stata cambiata il piedistallo è stato cambiato almeno sei volte ogni volta che arrivava un ministro cambiava il piedistallo non guardavano assolutamente nient'altro di tutto il resto ma guardavano sempre solo com'era il piedistallo della statua e quindi io a un certo punto ho detto va bene in realtà per me ho detto è importante fare un primo fondale che era costituito da questa fontana che anche isolava un po' lo spazio diciamo chiamiamolo un po' religioso in cui veniva espletata una cerimonia tutti gli anni di deposizione dei fiori eccetera eccetera e poi uno spazio un po' più civile legato a questo edificio che è un museo è diventato il museo della città era il museo Edara Liev e che io ho un po' raddoppiato nel senso che ho fatto uno spazio esterno che lo ha praticamente raddoppiato in più mi hanno chiesto di fare una cosa che avevo fatto in un altro progetto che avevano visto e che era l'abbiamo chiamata la shebequè cioè una sorta di copertura diciamo che si integrava integrava il disegno del giardino con un disegno delle ombre legato ai loro tappeti ho messo questa foto perché questa foto durante il cantiere un po' mi ha cioè è stato un momento per me di emozione molto forte perché ho pensato che gli operai avevano capito cosa stavo facendo cioè si erano messi fra i pilastri come diciamo nei miei disegni dove avevo messo questa grande copertura con dentro diciamo gli alberi si erano messi lì come se fossero stati in mezzo agli alberi si erano messi a mangiare e ho detto beh questa è una cosa bella dico evidentemente dico c'è un qualcosa che c'è lì e che le persone hanno capito vabbè ho fatto questa questo raddoppio diciamo sono contenta di non aver fatto di aver dato soddisfazione alle loro esigenze come una nuova facciata perché in fondo diciamo a questo viale c'è una grande ombra che viene segmentata da questi pilastri e che raccoglie proprio la prospettiva dell'arrivo e che fa sì che come dire dietro agli schermi diciamo e della della fontana e poi appunto del del museo finalmente la statua viene resa leggibile però diciamo il dislivello fa sì che questa piazza venga usata in modo autonomo fra l'edificio esistente che era un po' bruttino e che insomma ho coperto completamente sia davanti che ai lati ci sono degli spazi interstiziali che mi sembravano abbastanza interessanti che appunto sono stati utilizzati per come dire fare per dare un po' di più dignità diciamo all'ingresso vero e proprio questa e poi diciamo non ci sono ancora gli alberi come nel mio disegno cioè dove avevo messo degli alberi naturalmente speravo che mettessero subito degli alberi alti ma insomma hanno messo degli alberelli sono questi poi speriamo che crescano e questa invece è l'altra struttura in cui ho lavorato molto sui loro motivi ornamentali che vabbè devo confessare che io oggi penso molto diversamente da come pensavo rispetto al tema non tanto dell'ornamento ma a quanto il tema di quelli che noi chiamiamo ornamenti siano molto diversi in civiltà diverse nel senso che quello che noi magari oggi in Italia potremmo chiamare un motivo decorativo per loro non lo è assolutamente cioè proviene proprio da una filosofia completamente diversa questi disegni che appunto io ho fatto con delle lamiere microforate in cui ho proprio ridisegnato questa cosa e ho pensato di farle diventare un tappeto di luce per loro sono una cosa molto più profonda diciamo perché non si può pensare a quel tipo di cultura separata da questi motivi che loro chiamano nodi che poi sono stati anche sviluppati tridimensionalmente nelle loro architetture molti di voi saranno andati in Iran dove c'è veramente la matrice più profonda diciamo di queste e naturalmente come dire i loro tappeti di cui un po' ho riportato alcuni disegni qui sono intrisi di questa decorazione di questa geometria quindi ho pensato ok faccio una cosa moderna che si integra anche con il disegno del giardino e che sta insieme diciamo a questa esigenza di fare dei luoghi di ombra ma come dire poi alla fine è anche qualcosa che gli appartiene quindi in realtà è un grande coperto diciamo che si veste insieme nel tempo diciamo insieme alla vegetazione e però diciamo ha anche una sua autonomia e una sua diciamo architettura di vuoto dopo di questo vi faccio vedere dei progetti un po' più come dire piccoli un po' più anche un po' più vecchi e questa è una cosa che ho fatto moltissimi anni fa è una casa è un agriturismo che ho costruito in Portogallo e che come dire naturalmente io insomma nella mia storia diciamo di grande gavetta ho fatto una gavetta molto lunga sia qui a Milano che poi all'estero ho vissuto otto anni in Portogallo ho lavorato con Edoardo Sotto de Mora che per me è stato un grandissimo maestro naturalmente io stessa vedo l'influsso che lui ha avuto in questo lavoro però diciamo penso che come dire quando ho fatto questa prima casa ci sono già alcune cose che poi ho sviluppato è un progetto vecchio ma per me è un progetto che ha una come dire ha già qualcosa di tutto quello che mi ha interessato dopo ed è il fatto che per esempio non ho voluto fare un prospetto principale ho lavorato soprattutto sul fatto che in questo luogo se arrivava era alla fine di una valle c'era già questa preesistenza questa era la casa parrocchiale qui c'era la chiesa e si accedeva diciamo a questa zona che erano le stalle dall'alto e quindi arrivando dall'alto ho pensato che la copertura era la cosa più importante e poi mi è interessato subito non fare un edificio che si mettesse in competizione con questo che per quanto modesto comunque aveva questa cosa del granito che era impossibile non so come dire mi sembrava che comunque avesse una forza pur essendo piccola molto molto importante e quindi ho detto vabbè facciamo una cosa che si appoggia che si appoggia a questo muro che è un po' ricostruito anche perché era in alcune parti era anche un po' marcio aveva una giacitura che era questa l'ho mantenuta perché qui mi permetteva di fare un patio da cui si entrava scendendo dal terreno che lentamente degradava e poi ho recuperato l'ultima parte che era questa il nodo principale è stato questo cioè come mettere insieme una cosa vecchia con una cosa nuova devo dire che magari in alcuni punti oggi farei diversamente ma comunque questo binomio di lavorare con qualcosa che esisteva lì e con qualcosa che era nuovo era anche qualcosa che veniva da questa chiesa veniva dal terreno diciamo e poi è stata la possibilità di avere un interno molto più ricco che se fosse stato semplicemente un interno contemporaneo diciamo aveva un calore che secondo me io da sola non ce l'avrei fatta non so come dire avere le stanze che davano su un muro che sembrava un esterno secondo me era una ricchezza incredibile quindi e poi ecco appoggiarsi anche a una geometria dove vedevo una lesena quella poca decorazione che questa casa già aveva secondo me era molto bello e poi anche un ambiente moderno confluiva in un ambiente che era completamente diverso molto più diciamo tradizionale con la sua autonomia questa invece è una ristrutturazione di un edificio che c'è a Vicenza che è la mia città natale e anche qui vi mostro poco vi mostro appena diciamo le cose più interessanti di questo edificio è anche una cosa per cui ho avuto un premio sono stata anche molto contenta perché era una ristrutturazione molto complessa di in realtà 11 appartamenti tutti diversi era una palazzina tutta diciamo manomessa durante gli anni 50 e che era stata una tipografia in cui le altezze erano molto basse e svuotando un po' di qua un po' di là ho fatto 11 appartamenti tutti diversi di cui tre o quattro più interessanti che erano organizzati in duplex e in triplex che erano dei proprietari naturalmente gli altri sono andati un po' in affitto e che però come dire lavoravano sulla struttura base di queste case che erano case dei mulini organizzate per dei muri diciamo longitudinali in realtà erano tutte delle unità in cui ogni tanto era possibile ritrovare diciamo proprio l'unità base e svuotarla e quindi lavorare sul corpo come se fosse una casa unica come era all'inizio questa è la scala che le unisce tutte è questa scala qui cioè la scala di accesso e poi all'interno di queste diciamo di questi diversi appartamenti c'è questo duplex che in cui ho fatto questa scala che unisce diciamo la zona giorno con la zona notte c'è stato un articolo che mi ha fatto molto piacere che hanno citato un brano dei Led Zeppelin che si chiamava Stairways to Heaven e allora la proprietaria quando quando glielo ho fatto leggere si è messa a piangere ha detto oh diceva questa è una cosa bellissima dice mi hai fatto la scala ma era solo la scala che andava a casa è in camera tua solo perché lei ha accettato che io gliela facessi azzurra era una cosa che mi piaceva molto anche qua è stata una storia incredibile qui c'è anche un'amica che mi ha passato quello che mi ha fatto la composizione di questo cemento azzurro in pasta è stata una vera impresa perché è arrivato con tutti questi come dire barattolini tutti misurati per fare questo colore sono stati lì due notti a mescolare questo impasto che non veniva mai non va più non so perché si è bloccato questo è un altro invece un altro di questi appartamenti è un triplex che è organizzato tutto su questa scala che nasce così da questo piano che poi si sviluppa appunto lungo i due muri di una di quelle unità si sviluppa e poi arriva fino in cima quindi fa tre piani naturalmente questi sono diciamo i cosiddetti spazi pubblici della casa cioè la zona giorno che dà sulla cucina e poi dà su altre due stanze che sono annesse a questo ma che come dire però unisce questa scala ha il pregio diciamo di lavorare su tutto il corpo di fabbrica in maniera unitaria è un po' un progetto di scale mi sono un po' divertita a farne tante questo invece è un altro appartamento un mini appartamento fatto diciamo tutto su misura con tutti i mobili che sono stati fatti da questi bravissimi falegnami che stanno a Roma e che diciamo in un ambiente di 40 metri quadrati praticamente sono riuscita a fare cucina studio camera da letto e bagno e anche una sala diciamo decente che sta qui davanti si vede un po' poco facendo però appunto una specie di armadio unico dove diciamo tutto quello che c'è viene inclobato beh io ho finito perché magari vi siete anche annoiati naturalmente se ci sono domande sono assolutamente disponibile e contenta anche se qualcuno me le fa appunto se ci sono domande una cosa mi hanno comunicato che qualcuno firmando è una comunicazione di servizio ha lasciato le chiavi dell'auto appoggiate sul tavolo sotto sono state portate qui sono sul banchetto non so di chi siano eventualmente non torno a piedi torno no scherzo se ci sono domande appunto abbiamo l'architetto a disposizione volevo dire una cosa perché ho voluto mettere anche questi progetti diciamo più piccoli perché io non sono un architetto che fa grandi progetti cioè mi è capitato un pochettino veramente la mia tesi era un grande progetto però amo moltissimo fare cose piccole e molto concrete per cui mi sembrava giusto farlo capire insomma anche se poi ovviamente ognuno di noi ha una cioè non so come dire la storia la nostra storia professionale in Italia non è mai semplicissima il nostro mestiere in Italia non è non è che uno sceglie che vuole fare esattamente quella cosa e riesce a farla eccetera certo c'è una certa come dire uno persegue alcuni obiettivi eccetera ma non è detto che poi cioè la nostra professione io penso che sia una professione che deve essere fatta in modo completo cioè dobbiamo essere capaci io penso che sia importante saper fare un po' tutto cioè sono un po' contrario alle specializzazioni ecco questo cioè non mi piace tanto fare l'architetto specializzato cioè mi hanno insegnato cioè ho fatto tanta fatica per imparare a fare tante cose poi non è detto che io le sappia fare però come dire con molta modestia cioè quando affronto un problema cerco di non scontarmi niente e penso che questo sia un tema molto importante perché sempre di più ci ritroviamo che non so qualcuno mi dice ma tu fai interni fai la paesaggista fai questo io mi vergogno un po' a dirlo cerco di cerco di essere un architetto cioè penso che questo sia un modo di fare l'architetto cioè quella di non essere cioè ci hanno insegnato a essere un po' umanisti non è che ce lo dobbiamo dimenticare anche perché abbiamo delle città che francamente ci chiedono molto cioè non è una cosa di cui come dire bisogna dimenticarsi ecco non lo so forse questo è un tema di discussione è la cifra progettuale che mi ha molto colpito nei suoi progetti e devo dire questo fare architettura rispettando e andando soprattutto nel territorio quindi anche il quanto il paesaggio interviene quanto la luce interviene devo dire sono stata molto colpita dal piccolo al grande perciò chapeau grazie mille grazie insomma è un poi anche si fa questo mestiere anche per vivere per cui ogni tanto si riesce a fare dei progetti magari dei concorsi in cui magari che poi non si vincono tantissime volte ho fatto tantissimi concorsi che non ho vinto però come dire non è che non si impara cioè io penso si continua a imparare e c'è anche una necessità di come dire cioè la concretezza è assolutamente un dato importante nel nostro mestiere perché se non si fanno cantieri cosa che è sempre difficile io non ho costruito molto cioè vorrei aver costruito molto di più di quello che che ho fatto però come dire un cantiere ti insegna molte cose da un certo punto di vista certamente come dire il modo in cui tu ti devi rapportare alla tua professione non viene dal cantiere cioè non si può essere solo pragmatici ma ci vuole sempre anche una dimensione una visione su come dobbiamo lavorare che non significa cioè secondo me ci vuole altrettanta visione per fare un interno quanta per fare un piano cioè non è una cosa non è che quando io affronto uno spazio piccolo non devo avere una visione di quello spazio devo avere una visione di come posso migliorare se sto facendo una ristrutturazione quel luogo cioè comunque la vita no? cioè la vita di chi sta lì devo conoscerla cioè non so c'è tantissimo materiale c'è il materiale umano di come dire della proprio della vita che si consumerà dentro la cosa che tu pensi e quanti inciampi non devi farli fare no? non so io ogni tanto penso quante volte non so tu arrivi in un posto sbagli non so inciampi e dici madonna dico ecco dopo domani dico io faccio lo stesso errore e tutti inciamperanno e per me questa è una responsabilità cioè così no? come e non è una responsabilità minore di quella che hai quando fai qualcosa di più grande cioè certo le tematiche sono diverse ma se tu non le riporti sempre anche a quella cosa no? di quella tua vita di quel tuo percorso di quella di quell'essere umano che siamo tutti no? che poi utilizza quello spazio utilizza quel tuo pensiero che diventa che diventa una cosa beh cioè io penso che non stai facendo il tuo mestiere insomma io volevo chiedere una cosa non so se c'è una domanda ho visto una mano alzata no era un saluto volevo chiedere una cosa relativamente al corviale se non ho capito male l'esito di un concorso il progetto ecco quindi vorrei un attimo capire adesso cioè qual è il seguito perché poi sappiamo che da noi spesso si fanno i concorsi e in un certo senso sì quando si vincono e magari si riesce a vincere gli esiti diventano sempre molto lunghi o perlomeno travagliati allora il concorso l'ho vinto alla fine del 2015 quindi insomma diciamo 2016 siamo stati due anni ad aspettare di firmare il definitivo perché l'Ater che è l'azienda proprietaria dell'immobile e che aveva fatto questo concorso internazionale secondo me hanno fatto un concorso fatto molto bene è stato un concorso all'inizio c'erano circa 120 equip poi sopravvissute 50 perché il tema era veramente difficile cioè il concorso era veramente difficile pieno di richieste di cose molto puntuali insomma era era complesso però appunto diceva che nel concorso era valeva come preliminare e che se l'azienda avesse deciso di proseguire il progettista era un concorso di progettazione quindi avrebbe avuto il definitivo c'è stato un problema vabbè economico molto forte legato all'azienda all'Ater di Roma che è andato su tutti i giornali è venuto fuori un debito molto grosso quindi hanno avuto un momento di arresto e di insomma un po' di tentennamento sul fatto di andare avanti o meno io anche devo dire ho anche molto lottato perché questa cosa proseguisse cioè non mi sono persa d'animo perché un po' mi sentivo investita insomma di un problema che non era solo vabbè ovviamente insomma ci tenevo ovvio uno vince un concorso così non è che succede tutti i giorni confesso che insomma ci tenevo anche per me stessa però poi ho pensato Laura è la prima volta nella tua vita che fai un progetto che cambia la vita di 7000 persone cioè può cambiare la vita cioè mi sono sentita un pochettino un po' importante lo confesso cioè ho pensato vabbè insomma è una cosa è una cosa bella no? cioè pensare che tu hai anche un lavoro in cui c'è un momento in cui non è che sei da solo cioè che cambi la vita di vabbè del tuo committente di fai un piccolo cioè insomma una cosa che dà una svolta alla vita quotidiana di tanta gente quindi mi sono un po' tirata su le maniche e ho perseguito questa cosa in maniera veramente cioè ho rotto proprio le palle dopodiché veramente finalmente a un certo punto devo dire grazie a Zingaretti che mi è stato molto vicino cioè nel senso che ci ha creduto dall'inizio perché il concorso viene fuori dalla regione Lazio è la regione Lazio che finanzia l'operazione e Zingaretti era alla regione Lazio quando hanno fatto il concorso e quando io ho firmato il definitivo quindi ed è stato lui a voler andare avanti stiamo facendo il definitivo lo stiamo consegnando adesso il primo stralcio non è finanziata tutta l'operazione quindi adesso c'è un'altra spasmodica ricerca di fondi perché purtroppo sono cronici questi problemi però insomma stiamo andando avanti poi so che è una storia lunga un chilometro forse di più cioè nel tempo non mi illudo che sia facile però però insomma ce la stanno mettendo loro ce la sto mettendo io speriamo che l'Italia e Roma non faccia sempre la solita come dire che non sia sempre un fanalino di coda perché poi tra l'altro ovviamente anche la Biennale ha aiutato in questa cosa perché insomma l'eco della Biennale comunque è sempre forte e spero che le cose continuino insomma ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti